Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici, buon venerdì di questo mese di agosto caldo e piovoso, da un altro punto di vista ho visto i dati della Col di Retti sui problemi per l'agricoltura, c'è il nostro ministro dell'agricoltura che sta seguendo ovviamente tutti i problemi di un settore fondamentale come quello del mondo agricolo italiano, che il buon Dio ce la mandi buona per quello che accade dall'alto. Meteorologicamente parlando, spero che siate per qualche giorno in relax, non so se state seguendo questa diretta dal mare, dalla campagna, dalla montagna, magari molti come me dall'ufficio, saluto, abbraccio e dico grazie a chi lavora, ai medici, ai poliziotti, ai taxisti, ai farmacisti, agli infermieri, ai panettieri, ai commercianti, ai camerieri, ai ristoratori, ai parlamentari, ai ministri, è un'estate che merita attenzione giorno per giorno, la situazione politica piuttosto confusa però sicuramente nei prossimi giorni si andrà a delineare, la via maestra è sempre quella delle elezioni perché quando non ci sono maggioranze chiare, quando non ci sono progetti comuni è chiaro che sono gli italiani, è il popolo visto che la sovranità appartiene al popolo a potere e a dovere dire la sua, oggi ci sarà un incontro fra i vertici del PD e i vertici dei 5 Stelle. Ora io mi auguro che nessuno pensi di lasciare l'Italia in mano a un partito come il PD che ha perso tutte le elezioni possibili, immaginabili negli ultimi anni perché ne ha combinate di cotte e di crude. Ve li ricordate i risultati del governo Renzi, ve li ricordate le buone scuole, il Jobs Act e poi tornando alla legge Fornero col governo Monti, alla tassazione, è uscito un commento. Poi entro nel merito del tema per cui sono in ufficio da stamattina sull'immigrazione perché ci sono delle buone notizie, volere e potere, la testa dura e la linea dura danno buoni risultati, ve lo posso confermare da fonti certe, la Ocean Viking, nave norvegese di ONG francese, non verrà in un porto italiano. Dopo 15 giorni di tentativi, di mail, di richieste, di proteste, di appelli, non si viene in Italia, se vogliono vanno a Malta, se vogliono distribuiscono questi 356 immigrati in giro per il mondo, però finché faccio il ministro dell'interno e ho l'onore e l'onere con queste spalle piccoline però di farmi carico della difesa non solo dei confini ma dell'onore, della dignità e della sicurezza del popolo italiano senza permesso, qua non si arriva. Quindi lo dico, lo ribadisco e le fonti sono ufficiali ormai, ho aspettato questa mattina per confermarvelo, questa nave norvegese di ONG francese non porterà in Italia il suo carico di esseri umani che fruttano ai trafficanti di esseri umani milioni e milioni di euro. Detto, fatto, come promesso e poi entriamo nel merito dei dati. Dicevo però un'ipotesi di governo PD 5 Stelle che sta facendo rabbrividire i cittadini di mezza Italia e anche gli imprenditori e i risparmiatori di mezza Italia. Ve le ricordate le tasse sui conti correnti, il disastro di Banca Etruria? A proposito, abbraccio tutti i risparmiatori truffati dalle banche perché è stato pubblicato proprio ieri in gazzetta ufficiale il provvedimento che dà risarcimento immediati a tutti coloro che sono stati truffati da banchieri disonesti. E non voglio ricordare chi c'era al governo quando migliaia, anzi milioni di italiani subivano queste truffe. Quindi che qualcuno stia pensando di riportare al governo i Renzi, le Boschi, i Lotti, le Boldrini che gli italiani hanno cacciato dalla porta, ecco che qualcuno per interesse personale li faccia rientrare dalla finestra, no. Ecco, pur di evitare questo, dico, le porte e le vie del Signore e della Lega sono infinite perché rivedere al governo Renzi e la Boschi proprio no. Ecco, c'è un minimo di dignità da preservare. Dicevo, tasse sulla casa, il Presidente di Confedilizia, giustamente, vedendo le manovre e le manovrine di questi giorni, è preoccupato e dice che colpire la casa degli italiani sarebbe un ulteriore suicidio. Dice Spaziani-Testa che il punto sull'economia dell'ordine del giorno approvato dalla direzione del Partito Democratico non eccelle per chiarezza e molti vi stanno leggendo aperture ad ulteriori forme di tassazione sulla casa. E no, la Lega si propone di andare al governo, se ci sono elezioni, al Presidente della Repubblica e al buon Dio piacendo. Comunque, chi governerà con la Lega ha ben chiaro che la tassazione sulla casa non sale, come qualcuno vorrebbe a sinistra e si sente parlare di patrimoniali, ma scende. Non tutto, non subito, però un miliardo di taglio della tasi è già parte della manovra economica a cui la Lega sta lavorando. Immigrazione, dicevamo, quindi la buona notizia di questo venerdì è che non ci sono stati interventi esterni di questo procuratore, di quel tribunale, di quel giudice e quindi questa nave carica di 356 immigrati irregolari non arriva in Italia, se vuole va a Malta, se vuole porta negli altri paesi europei queste persone. Vi ho stampato i dati aggiornati ad oggi, questa è la scrivania, però ovviamente io sto tenendo sono qua e quindi non ho grandi mezzi strategici, ho appoggiato il telefonino su un portapenne, così al massimo posso girare, vi posso far vedere, qua questo è l'ufficio, c'è il quadro, ci sono le bandiere, c'è il gagliardetto dell'Avis di cui vado orgoglioso, c'è il computer, c'è la stampante, c'è il telefono di servizio, c'è la televisione per le notizie, ma io adesso riappoggio il mio telefonino qua e dico perché mi piacerebbe e sarebbe per me un onore, non un onere, ma un onore, un piacere, prima ancora che un dovere continuare a occuparmi della sicurezza dei nostri figli e della nostra gente, non per occupare una poltrona, non faccio politica per occupare poltrone, anzi le poltrone servono per fare, i ministeri servono per fare, altrimenti le rimettiamo nelle mani dei legittimi proprietari che sono i cittadini italiani, dicevamo oggi, ad oggi 23 agosto, sbarchi al 23 agosto del 2019, quindi primo gennaio 23 agosto, ormai otto mesi, 4722, segnatelo perché questi sono i numeri veri poi quando quelli del PD vanno in televisione a fare i fenomeni sull'immigrazione, continuano gli sbarchi, non avete fatto nulla, numeri, anzi guarda per farlo più chiaro prendo carta e penna e ve li scrivo, così almeno se in spiaggia oggi pomeriggio o in ufficio domani o a scuola lunedì qualcuno ve li contesta, ve li scrivo i numeri, la cura Salvini sull'immigrazione è un PD che torna al governo sui porti, sull'immigrazione, sugli sbarchi, sullo Iussoli, non oso immaginare che cosa potrebbe fare sulla pelle degli italiani, magari ci sono alcuni delle cooperative che hanno campato di immigrazione per anni che già si stanno sfregando le mani, faccio e farò di tutto per evitare che il Partito Democratico torni al governo, questo è il mio impegno. Allora dicevamo, immigrazione, facciamo il confronto degli ultimi tre anni, 2017, 2018, 2019, allora nel 2017 a oggi 23 agosto erano sbarcati 98.000 immigrati, quindi questo è. 2017 a dal primo gennaio al 23 agosto ne erano sbarcati 98.000. L'anno scorso, io ero ministro da due mesi, quindi già si vedevano gli effetti della cura di controllo degli sbarchi, gli sbarchi erano calati a 19.526, quindi da 98.000 a 19.000. Quest'anno, e di cui mi prendo tutta la responsabilità di quello che è accaduto essendo al governo da un anno, guardate i numeri, gli sbarchi sono 4.722, quindi guardate un po' voi, nell'arco di soli due anni come è cambiato il mondo, 98.000, 19.000, 4.000, 98.000, 19.000, 4.000. Spero che nessuno pensi di riportare al governo sono i Renzi dei porti aperti e delle porte aperte per tutti, perché non sarebbe un dispetto a Salvini. Leggo qualche giornalista geniale, così fregano Salvini, no così non fregano Salvini, così fregano gli italiani, per caita di Dio. Io ho fatto quello che gli italiani mi hanno chiesto di fare mandandomi al governo, quindi se pensano di fare un governo tutti contro la Lega, tutti contro Salvini non fanno un dispetto a Salvini, anche perché volendo, se dovessi fare un ragionamento di egoismo personale e partitico, questo sia chiaro agli analisti politici, stare all'opposizione è molto più comodo e molto più facile. Tu stai all'opposizione, non stai qua al Ministero a lavorare sull'antimafia, sull'antidroga, sull'antiracket, scafisti, sbarchi, ingressi, espulsioni, polemiche, minacce, denunce, processi, no. Stare all'opposizione, stai lì a contestare e dire no questo non va bene, no questo non va bene, no questo non va bene, e io farei così, e io farei così, come sta facendo Renzi ormai da tempo. Se stai all'opposizione, contesti, critichi, attacchi, insulti, minacci, se sei qua, fai, hai la responsabilità che le cose vadano in un certo modo. E un altro numero di cui vado orgoglioso, alla faccia dei sinistri, dei buonisti e dei saviani, è quello sui morti e i dispersi nel mar Mediterraneo. Anche qua, numeri ufficiali, poi è vero, mi state scrivendo che se però lo scrivo, voi lo vedete storto, e quindi come diavolo faccio? Eh, ovviamente, non posso, vabbè, fa niente, ve lo dico con calma, perché sto intravedendo qualcuno, dice Matteo, però i numeri che hai scritto, me li hai messi di davanti, li ho visti storti, allora le dico con calma. Questi sono i numeri ufficiali dei dati ONU, ve li faccio vedere, poi adesso vediamo, però se avete carta e penna, così almeno scripta manent, noi stiamo salvando migliaia di vite. Noi con la politica dei porti chiusi, dei controlli, dei sequestri, del no alle ONG che sono complici di questo traffico, stiamo salvando migliaia di donne e bambini che erano destinati alla morte. Questo è. Quindi questi sono i numeri dei morti e dei dispersi, secondo i dati non di Salvini, che è brutto o cattivo, fascista, razzista, nazista, populista. I numeri dell'ONU, dell'UNHCR, morti e dispersi, 2016, 2017, 2018 e 2019. Adesso non so se si vede, però ve li dico, nel 2016, fra morti e dispersi nel Mediterraneo, più di 5.000, 5.096, 2017, 3.139, 2018, 2.277, 2019, oggi, cura Salvini di quel cattivone, 839. Quindi governo Renzi, 5.000 morti e dispersi, governo Salvini, 839. Quindi sei volte di meno. Tradotto la politica dei porti aperti, lo dico anche a qualche uomo di chiesa che ogni tanto mi attacca perché non si deve usare il rosario, perché bisogna accogliere tutti. La politica dei porti aperti, la politica delle ONG, la politica dell'immigrazione di massa, portò nel 2016, Renzi imperante, a 5.100 morti nel Mediterraneo. La politica del controllo, del rigore, della dignità, del rispetto e delle regole, l'ha portata a 839. 5.000, con i buonisti e col PD, 839, con chi vuole il rispetto delle regole. 5.000 morti e dispersi, 800. Sempre 800 di troppo, perché il mio obiettivo finale da ministro, da italiano e da papà, è che arrivino in aereo regolarmente organizzati, controllati, curati e coccolati, coloro che scappano davvero dalla guerra. Non con i barchini o con i barconi o con i pedalò, con le ONG. Questo è l'obiettivo a cui stiamo lavorando. Però da 5.000 morti siamo scesi a 800. e permettetemi, questo mi fa guardare in alto, a testa alta, con la testa ma soprattutto con il cuore pieno. Quindi, riassumendo la buona notizia del giorno, per cui sono contento di essere ministro di questo Paese, pur fra mille difficoltà, fra mille ostacoli, fra mille no. Ancora questa settimana è stato aperto un fascicolo d'inchiesta dalla procura di Agrigento per abuso d'ufficio contro i gnoti, però non ci vuole grande fantasia per supporre che l'ignoto che verrà indagato ha un nome, ha un cognome Matteo Salvini. Lo so, mi metto in gioco ogni giorno che il buon Dio manda in terra. È per questo che vedere un giochino di palazzo che ipotizza un governo PD e 5 Stelle mi lascia con l'amaro in bocca, non per me, ma per voi. Ripeto, è più comodo stare all'opposizione e dire sempre no, contestare, commentare ed è più scomodo avere responsabilità di governo. Per questo vi dico che piuttosto che vedere tornare in queste stanze quei Renzi, quelle Boschi, leggo Casini, leggo Laboldrini, leggo nomi di ministri che già si stanno spartendo poltrone e poltroncine. No, ecco, la via maestra sono le elezioni, perché in democrazia la sovranità appartiene al popolo, lo dice la Costituzione, se non ci sono maggioranze le diano. Queste maggioranze gli italiani con libero voto, anche perché se si vota in autunno di governi che fanno la manovra economica entro la fine dell'anno ne fai due, non uno. Quindi non c'è problema di aumento dell'IVA, non c'è problema di aumento delle tasse. Se voti all'inizio di novembre, entro novembre hai il nuovo Parlamento, entro novembre hai il nuovo governo e dentro dicembre, come l'anno scorso, hai una nuova manovra economica che per quanto riguarda la Lega deve essere forte, importante, coraggiosa e di buon senso, che però oltre a non aumentare l'IVA ed è ovvio, leggo che invece qualcun altro sta ipotizzando aumenti modulari dell'IVA, fregatura, quindi noi non solo non vogliamo aumentare l'IVA ma vogliamo ridurre abbondantemente per almeno 10 milioni di italiani la tassazione che ormai è fuori controllo, non tutto e per tutti subito ma già con la manovra economica di quest'anno una bella cura, un bello shock fiscale positivo. Vediamo, poi non mi posso auto mettere qui o là, se la parola tornerà agli elettori, spetterà a voi decidere, poi magari gli elettori voteranno Renzi o Zingaretti per caità, è il bello della democrazia, però quantomeno facciamoli scegliere. Sicuramente se nelle prossime ore si vedranno tornare all'assalto delle poltrone quelli che gli italiani hanno fatto uscire da questi palazzi con i voti di tutti gli ultimi mesi e di tutti gli ultimi anni, lo dirò agli amici dei 5 Stelle, ma veramente volete riportare al potere Renzi, Laboschi, Lotti, quelli che si definivano e voi definivate fino a qualche giorno fa il partito di Bibiano, il partito di Banca Etruria, il partito delle spartizioni del CSM e delle procure. Ecco no, io una roba del genere non avrei mai il fegato per farla, per pensarla o per imporla ai cittadini italiani. Con tutto, con tutti, ma mai con Renzi. Ecco, chiedetemi tutto, sono disposto a fare tutto per il bene del mio Paese, dei miei figli, per difendere la sicurezza di questa splendida terra chiamata Italia, però con Renzi no, con Laboschi no. Infatti ieri ho visto un video della Boschi che girava in rete che diceva l'esatto contrario, diceva sì, i 5 Stelle sono incompetenti, sono inaffidabili, però pur di non vedere più Salvini facciamo di tutto. No, ecco, se pensate di fare uno sgarbo a me avete sbagliato a capire, perché ripeto, è più comodo, è più facile, è più semplice stare all'opposizione. Non mi piacciono le cose semplici e in quest'anno di governo penso di avere dimostrato agli italiani di che pasta e di che concretezza siamo fatti. Quindi, l'Ocean Viking, non in Italia, intanto è arrivata una nave spagnola per recuperare 15 immigrati che sono sbarcati in Italia per decisione della procura di Agrigento nelle scorse ore e chiudo con una notizia di cronaca disgustosa, che arriva dal Veneto, ma poteva arrivare da qualunque parte d'Italia e su questo il nuovo governo, se mi avrà presente, come spero, ed è tutto nelle vostre mani, su questo le pene dovranno essere pesantissime. Titolo della notizia, violenta la figlia di due anni e mette il video in rete. Arrestato. Un uomo di 46 anni, residente in un paese del Trevigiano, è stato arrestato con l'accusa, poi per caità, tutti innocenti fino a prova contraria, però qua ci sono dei video, è stato arrestato con l'accusa di aver violentato la figlia di due anni e mezzo e aver messo poi in rete per le chat di pedofili i video di quegli atti. Quindi non è un'accusa, un arresto sulla denuncia. Sappiamo che ci sono tante false accuse, ad esempio al termine di separazioni, di divorzi, accuse di molestia, accuse di maltrattamenti da una parte e dall'altra, che poi nel 90% dei casi si rivelano false e sono solo un modo per alzare il prezzo e rivedere il diritto di famiglia è fondamentale e rimettere al centro il diritto, la salute e la felicità dei bambini è fondamentale che devono essere tolti dalle beghe degli adulti, dalle guerre degli adulti, che spesso e volentieri li usano come merce di scambio e i casi di Bibiano che mi fanno schifo, mi fanno vomitare al solo pensiero leggere quelle documentazioni, ascoltare quelle intercettazioni di quegli infami che portavano via coscientemente bambini dalle loro case, dai loro letti, dalle loro mamme, dai loro papà, dai loro fratellini, dalle loro sorelline per questione di soldi o per ideologia, mi fate schifo? Ecco l'ho detto ieri, mi vedo un ipotetico primo consiglio dei ministri di un'eventuale maggioranza PD 5 Stelle che si svolge proprio a Bibiano, in mezzo a quelle mamme e a quei papà, ma andiamo oltre perché vi voglio leggere fino alla fine questa notizia disgustosa, su cui andremo fino in fondo, ecco questo 46enne è stato arrestato perché avrebbe violentato la figlia di due anni e mezzo e poi avrebbe addirittura messo in rete per le chat di pedofili i video di quegli atti, il padre della piccola, il padre, non dite padre, non scrivete padre, che schifo, il verme, l'infame, anzi non la bestia, perché è una bestia non fa queste cose, è stato individuato grazie ad una segnalazione della polizia australiana che indagando sui siti pedopornografici nel dark web ha rintracciato i video e alcuni frame in cui compariva il volto del presunto orco, oltre al numero di targa di un'auto, le indagini della polizia postale del Veneto, che ringrazio orgogliosamente, ringrazio donne e uomini delle forze dell'ordine che giorno e notte e anche in pieno agosto vigilano sulla tranquillità degli italiani, la polizia postale del Veneto ha permesso di individuare la casa del 46enne che è stato arrestato su ordine della procura di Venezia per violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale pedopornografico. L'uomo che viveva da solo con la bambina, sua figlia biologica, è ora in carcere a Treviso. Vabbè, la seguiremo. Quindi, grazie, ho visto che nonostante siamo in pieno agosto ci sono decine di migliaia di persone sintonizzate e migliaia e migliaia di commenti. Io non mollo, io non mollo, non la poltrona, eh. L'anno scorso in questi tempi ero in vacanza con mia figlia per qualche giorno in montagna. Ovviamente siamo qua per ridare agli italiani o un governo stabile, coerente, con le idee chiare, con un programma nuovo e con una squadra nuova, oppure il diritto al voto, che in democrazia penso sia la scelta sempre comunque più lineare. Mi hanno appena portato la cartina delle presenze nel Mediterraneo di tutte le navi delle ONG, che ovviamente, sentendo odore di porti aperti, sono tornati in massa. La Mar Ionio, la Lifeline, la Ocean Viking, appunto, la Open Arms, la Sea Watch, la Iosefa. Ale, sembra una regata velica, sembra la barcolana, solo che invece di un concorso velico nello splendido Acque Triestine, è un concorso nelle acque del Mediterraneo per aiutare, ahimè, questo è il risultato finale, i trafficanti di esseri umani. Vado avanti perché qua sulla scrivania le vicende e i problemi si accumulano. Grazie. Chiudo come ho finito. Grazie. C'era un governo fermo, purtroppo, da settimane e da mesi. E i governi fermi che non fanno, che non creano, ma che litigano, non servono a niente e a nessuno, se non a qualcuno per tirare avanti. Abbiamo scelto di dare uno scossone, uno stop, un alto là, un allarme, ma di fronte a tutti gli italiani, non nel chiuso dei palazzi come si faceva una volta con la vecchia politica di cui qualche esponente del Partito Democratico è ancora orgogliosamente portavoce. Adesso, alla luce del sole, o c'è un accordo con una squadra, un progetto e un'idea di taglia per lavorare bene per i prossimi anni, a prescindere dalle poltrone e da chi fa cosa, questa è l'ultima delle cose che interessano alla Lega, politica, oppure c'è la via del voto e quindi vi aggiorneremo, non vi disturbo oltre anche perché abbiamo fatto le 12 e mezza e quindi spero che abbiate qualche tempo per stare con i vostri figli, che è la cosa più bella del mondo. Io nel mio piccolo, con tutti i miei difetti, con tutti i miei limiti, con tutti i miei problemi, con tutti i miei errori, sto qua, anche oggi in ufficio perché, lo dico col massimo dell'umiltà, ritengo che 60 milioni di italiani da ministro siano 60 milioni di miei figli, anche quelli che non mi possono vedere, anche quelli che mi insultano, anche su questa pagina, ne leggo di ogni, muori bastardo, infame, Salvini appeso a testa in giù, sparate a Salvini, picchiate Salvini, Salvini in piazzale Loreto, ma almeno ad agosto rilassatevi, ma vivete male se vivete oggi odiando il prossimo, insultando il prossimo. Non vi piaccio, ma ci sta, siamo in democrazia, però minacciare di morte, istigare alla morte, l'amore vince contro la cattiveria, se è contro l'invidia e contro la gelosia. Io sono piccolo piccolo, però non mollo, non mollo perché ci siete voi. Quindi grazie, vi abbraccio e se ci sono altre notizie ci colleghiamo nel proseguo della giornata. Intanto oggi pomeriggio, di questo parleranno giornali e telegiornali, c'è l'incontro fra i responsabili del Partito Democratico e i responsabili dei Cinque Stelle per vedere se è possibile dare un nuovo governo al Paese. Io vi posso dire che per l'Italia faccio tutto, per i miei figli e per il bene vostro faccio tutto, ma non chiedetemi di andare con Renzi o con la Boschi. No, no, no.